Le società partecipate, colgo questa occasione per chiarire un punto, quando la Corte dei Conti Nazionali ha esaminato le società partecipate italiane fa riferimento alle società partecipate di tutti gli enti, quindi dei comuni, delle province e delle regioni. L'anno di riferimento è il 2013, nel 2013 in Umbria c'è stata una società prevalente, quella dei trasporti, che a fronte di gravissime difficoltà non a caso la giunta regionale si è fatta artefice di una operazione di risanamento, di dismissione, di vendita a vantaggio di un operatore industriale come Bus Italia del gruppo FS. Mentre le società partecipate dalla regione, di cui al 2014 non presentano nessuna alcuna perdita, ma sono tutte con i bilanci in pareggio o in attivo.